Da cinque anni il Comune porta avanti insieme all'Associazione il progetto ESSERCI. Di cosa si tratta? È un progetto di inclusione che vede l'alleanza del Comune di Arezzo insieme a molte associazioni, insieme a Estra, insieme a Coingas, dedicata a bambini con alcune disabilità che insieme ad altri bambini costruiscono percorsi e laboratori per sperimentare l'inclusione in maniera diretta, producendo anche opuscoli sui temi più stringenti dell'attualità. Entriamo in un network di associazioni del terzo settore che vedono un progetto in grado di maturare nella sua sostenibilità e nell'efficienza delle attività. Il nostro ruolo è quello di valutare gli aspetti psicologici di quello che è il concetto dell'inclusione e soprattutto della peer education come metodo educativo tra ragazzi con disabilità e non e stiamo avendo dei buoni risultati con partecipazioni che aumentano ogni anno di più. Quella che è la riabilitazione equestri per bambini e ragazzi con disabilità fa bene anche a tutti gli altri. Diciamo che il cavallo è un medico eccezionale per tutte le cose, per tutti i problemi che hai. In più con i ragazzini con disabilità, se uno magari ha una disabilità fisica, ok, il cavallo si mette comunque la sua fisicità. Per cui vedi dei ragazzini che magari a fare altri sport hanno problemi, a cavallo non ce li hanno. Allora, l'associazione Cresce entra nel progetto facendo delle attività presso la casa del Pietro, ma soprattutto nella realizzazione dell'opuscolo finale dove tutti i ragazzi vengono coinvolti con una cosa comune, quest'anno il tema è il riscaldamento globale. Altre volte vi siete occupati di quali altri temi? Il bullismo è stato il primo tema e poi abbiamo affrontato vari temi dell'agenda 2030. Grazie.